Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Per il caso di oggi arriviamo fino ad Atlanta, negli Stati Uniti, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, quando la città inizia ad avere un boom demografico che continua tutt'oggi. Ma prima voglio ringraziare lo sponsor di oggi. Vi ho già parlato di questo fantastico servizio e ve lo ripropongo perché mi sono innamorata di HelloFresh. HelloFresh è un servizio che vi permette di ricevere direttamente a casa vostra una box con tutto lo corrente per preparare piatti gustosi e sempre diversi. Scegliete le ricette e HelloFresh vi consegna direttamente tutto a casa, con tutti gli ingredienti. HelloFresh è un servizio che si adatta al vostro stile di vita, ai vostri impegni, potete fare degli abbonamenti settimanali e poi in caso potete sospenderli. In questo modo cucinare sarà semplicissimo ma soprattutto avrete la possibilità di cucinare dei piatti sempre nuovi. Potrete gustare sapori nuovi perché sono previsti diversi menu, ma soprattutto, cosa importantissima, eviterete gli sprechi. Perché? Beh, perché a casa vi arriverà la box con tutti gli ingredienti già porzionati che avete scelto per i vostri piatti. Insieme agli ingredienti tra l'altro troverete un foglio per seguire le ricette da eseguire passo a passo, in cui sono segnate anche le calorie, quindi anche se siete a dieta potete usufruire di questo servizio senza sgarrare. Potete stupire i vostri bambini con delle fantastiche cene per tutta la famiglia, oppure potete stupire i vostri partner con delle cenette gustose e sempre nuove. Mi sto davvero trovando bene con HelloFresh. I loro piatti sono sempre molto vari e cambiano ogni settimana. Gli ingredienti sono freschi e di qualità e soprattutto è un piacere per me non cucinare e mangiare sempre gli stessi cibi che dopo un po' mi stufano. E anche il mio compagno è parecchio felice di assaggiare piatti diversi dei soliti. Infatti ho già ordinato un'altra box, se volete ordinare una box anche per voi vi lascio il link in descrizione. Inserite la vostra email e utilizzate il mio codice sconto HelloFresh. Avrete anche 65 euro di sconto. Ma torniamo al caso di oggi. Siamo anche nell'era del cambiamento economico, quando gli afroamericani in crescita votano il primo sindaco nero della città, Maynard Jackson. Le comunità più povere ripongono parecchia fiducia nel nuovo sindaco, che in effetti introduce alcuni cambiamenti. Una delle prime misure adottate dal sindaco è la riforma della polizia. Prima di quel momento la maggior parte dei poliziotti è rappresentata da persone bianche. La polizia al tempo purtroppo è razzista e c'è molta discriminazione, ma nel 1978 il sindaco nomina Lee Brown come commissario per la sicurezza pubblica e George Knapper come capo della polizia. Entrambi neri. Il cambiamento è nell'aria, ma nonostante la forte crescita economica, la popolazione nera della città rimane molto povera. E questo porta a un incremento della criminalità. Atlanta diventa quindi nota come la capitale degli omicidi degli Stati Uniti. Ogni anno si verificano più di 240 omicidi e contemporaneamente un serial, o forse più di uno, colpisce in città. Dal 1979 al 1981 la città di Atlanta si ritrova ad affrontare un vero e proprio incubo. Infatti nell'arco di questi due anni si continuano a scoprire nelle zone boscose e nei fiumi dei corpi senza vita di bambini neri. Alla fine di questo incubo si contano più di due dozzine di vittime. La città e i suoi abitanti vivono nel terrore dell'ignoto uomo nero, che avrebbe rapito almeno 30 bambini e adulti in un periodo di due anni. Alcuni erano scomparsi da così tanti mesi che non era possibile determinare come fossero morti. Quando Wayne Williams fu arrestato nel 1981 e condannato nel 1982, la maggior parte della città sembrò tirare un sospiro di sollievo. Sebbene Williams sia stato condannato solo per gli ultimi due omicidi, la città lo ha ufficialmente collegato ad altri 22 casi e ha chiuso quelle indagini. Quasi dall'inizio tuttavia si credeva che Williams non avesse ucciso tutte le vittime, se non addirittura nessuna. Le voci abbondavano sia sulla corruzione politica e gli insabbiamenti sui circuiti di prostituzione minorile, fino al Ku Klux Klan, che uccideva i bambini per impedire agli afroamericani di insorgere in città. Se si deve credere ad alcune di queste teorie, Williams poteva essere solo uno dei numerosi assassini che operavano in città in quel momento. Ma parliamo, a questo punto, delle piccole vittime. La prima vittima è Edward Hope Smith. Il 14enne, detto Teddy, è un appassionato di calcio e spera di entrare a far parte della squadra di football del liceo. Nell'autunno del 1979 vive in una delle case popolari a Cape Street, nel sud ovest di Atlanta. Purtroppo quella zona è molto degradata, le case sono quasi tutte fatiscenti e per strada è più facile vedere spazzatura che cittadini, ahimè. È da poco passata la mezzanotte del 21 luglio 1979, quando Teddy lascia la pista di pattinaggio dopo aver trascorso la serata con la sua ragazza. È diretto a casa, da solo e a piedi, ma a casa non ci arriverà mai. Arriviamo dunque ad Alfred Evans. Anche lui, 14enne, è amico di Teddy Smith e suo cugino esce con la futura vittima, Patrick Rogers. Come Teddy è uno sportivo con un particolare interesse per il basket, il wrestling, la box e il karate. Anche lui vive in un appartamento delle case popolari, ma dall'altra parte della città, vicino a Memorial Drive. Teddy è scomparso già da alcuni giorni, quando Alfred esce di casa per andare a vedere un film sul karate al teatro di Peachtree Street, nel centro di Atlanta. Un amico gli dà un passaggio fino alla fermata dell'autobus di Glenwood, dove viene visto l'ultima volta. Non arriverà mai a teatro. Il 28 luglio 1979, i resti dei due amici vengono trovati nei boschi a largo di Nisky Lake Road, da una donna anziana in cerca di lattine. Teddy è stato colpito alla schiena con una pistola calibro 22, mentre il medico legale dichiarerà che Alfred è invece morto per asfissia o strangolamento. Sono entrambi vestiti interamente di nero. Mancano la maglia e i calzini da calcio di Teddy, mentre Alfred indossa una cintura che non è sua. Ci vorrà più di un anno per effettuare l'identificazione di entrambi. Le forze dell'ordine non possono sapere che queste due dipartite saranno solo l'inizio di un incubo in cui Atlanta sarebbe stata immersa negli anni a venire. Le autorità alla fine concludono che entrambi i giovani erano coinvolti in un giro di sostanze, avevano a che fare con persone poco raccomandabili e quindi le uccisioni erano probabilmente collegate all'ambiente che frequentavano. Inutile dirvi che le indagini eseguite sulla loro morte sono state nella migliore delle ipotesi imprecise. Arriviamo alla terza vittima, Milton Harvey. Prima del suo omicidio, il 14enne Milton viene portato via dagli ambienti ad alto rischio dai suoi genitori. Preoccupati per il contesto in cui Milton sta crescendo, gli permettono di andare in un quartiere della classe media nel nord-ovest di Atlanta presso degli amici. Non aveva assolutamente alcun legame con le sostanze e nemmeno con nessuna delle altre vittime, o almeno così sembrava. Il 4 settembre 1979 è il primo giorno di scuola, ma Milton non ci va perché l'amica di sua madre gli aveva comprato delle scarpe, secondo lui, sbagliate e lui non voleva essere preso in giro già il primo giorno di scuola. Così, al posto di recarsi a scuola, prende in prestito una bici gialla da un vicino per portare un assegno per sua madre in banca. Da questo momento di Milton si perdono le tracce. Una settimana dopo, la bici gialla viene trovata su Sandy Creek Road, una stradina sterrata. Il corpo di Milton, invece, non viene trovato fino a metà novembre del 1979, quando ormai è gravemente decomposto. Si trova in una discarica nella città di East Point, a molte miglia da dove si trovava la bicicletta e da dove aveva vissuto. Senza segni evidenti di violenze sul suo scheletro, la morte di Milton non viene inizialmente considerata un omicidio. Poiché East Point è fuori dai confini della città di Atlanta, l'East Point PD lavora il caso di Milton Harvey, come a un incidente isolato, senza alcuna relazione con le morti di Edward Smith o Alfred Evans. Arriviamo a Yusuf Bell. Yusuf ha solo nove anni ed è considerato un bambino molto intelligente. Vive presso la McDaniel Glen Housing Authority con sua madre, le sorelle e il fratello. Il 21 ottobre 1979 la vicina di Yusuf, Eula Birdsong, gli chiede se può andare al negozio per comprarle del tabacco da fiuto. Yusuf era un bambino gentile e non si tira indietro, effettua quindi l'acquisto da Reese Grocery. Un testimone però afferma di aver visto Yusuf senza maglietta né scarpe salire su un'auto blu con un uomo che identifica come il padre biologico del ragazzino. Il caso di Yusuf è il primo ad attirare l'attenzione dei media, sicuramente più dei casi precedenti, poiché sua madre, Camille, si rivolge proprio ai media per chiedere al suo rapitore di rilasciarlo. L'8 novembre 1979 il suo corpo viene trovato da un bidello presso la E.P. Johnson's Elementary School. Yusuf indossa ancora i pantaloncini marroni con cui era stato visto l'ultima volta. Era stato colpito due volte alla testa e poi strangolato. In questo micidio c'è però qualcosa di insolito, sembra che i piedi del bambino fossero stati lavati. Questo fa nascere l'ipotesi secondo cui qualcuno rapisca questi bambini per qualche strano rituale religioso. Il funerale di Yusuf è un evento importante, sempre per via dell'interazione di Camille Bell con i media locali. Il sindaco Maynard Jackson in quell'occasione promette un'indagine completa ma a questo punto ancora nessuna delle morti avvenute è stata collegata alle altre dalle autorità. Erano considerati quattro omicidi isolati, quel tipo di omicidi che avvengono più facilmente nelle comunità povere. A questo punto tocca Angel Lehner. Dopo una pausa di diversi mesi gli omicidi riprendono. Angel è una bella dodicenne che inizia a ricevere attenzioni maschili, specialmente dagli uomini arruolati nel vicino Fort McPherson, cosa che crea grandi preoccupazioni in sua madre. Il 4 marzo 1980 Angel finisce i compiti e lascia il suo appartamento nel sud ovest di Atlanta, intorno alle 16, vestita con un completo di jeans, per guardare la televisione a casa di un'amica. Sua madre è preoccupata, ormai sono le 18 e Angel avrebbe dovuto essere a casa ormai da mezz'ora. Così la donna chiama la polizia a scongiure i poliziotti di indagare, dice loro che sicuramente qualcuno le ha fatto del male o l'ha rapita. La polizia però non le dà retta, quindi la donna va in giro a cercare sua figlia da sola affinché non le si gonfino le caviglie e cammina per ore ed ore. Passano sei giorni e la donna è disperata, non fa altro che piangere, non riesce a dormire. Poi qualcuno bussa alla sua porta. È la sua vicina Venus che le dice che sua figlia è stata ritrovata, senza vita, legata a un albero. Il corpo di Angel infatti viene trovato legato a un albero con un cavo elettrico avvolto intorno al collo e della biancheria intima bianca, non sua, infilata in bocca. Il medico legale stabilisce che è morta per strangolamento, causato da una legatura. Inoltre aggiunge che l'imene di Angel è rotto e sono presenti delle ferite sui genitali. Nonostante ciò non viene riconosciuta alcuna aggressione intima. Due uomini vengono interrogati sull'omicidio di Angel, uno di questi era stato arrestato per aver cercato di rapire un bambino in mezzo alla strada davanti a tutti. Vive a solo mezzo miglio dalla casa di Angel, eppure non vengono effettuati arresti e il caso è tutto risolto. La polizia viene fortemente criticata per la serie di omicidi che si verificano in città e i capi della polizia negano che ci sia un collegamento tra i vari casi. L'unico elemento comune, afferma la squadra omicidi di Atlanta, è che sono tutti bambini o bambine neri. Passiamo ora a Jeffrey Mattis. L'11 marzo 1980, il giorno dopo il ritrovamento di Angel, Jeffrey, di 11 anni, che vive nel quartiere del West End con la madre, esce di casa e cammina per diversi isolati fino alla vicina stazione di servizio Star per comprare un pacchetto di sigarette proprio per sua madre. Il padre di Jeffrey, che era stato impiegato come guardiano notturno in un cimitero, era stato assassinato nel 1974 durante una rapina avvenuta mentre lavorava. Jeffrey è un giovane intraprendente che guadagna una paghetta portando generi alimentari per i clienti del quartiere Croger. Indossa una camicia bianca e verde, pantaloni da jogging grigi e scarpe marroni. Come Yusuf Bell, prima di lui, Jeffrey non torna a casa. Un amico riferirà di aver visto il ragazzo salire sul sedile posteriore di un'auto blu. A distanza di un'ora, sua madre inizia a preoccuparsi perché suo figlio sarebbe già dovuto rincasare. Quando i suoi fratelli non riescono a rintracciarlo da nessuna parte, sua madre chiama la polizia. L'ufficiale che risponde alla chiamata le dice di chiamare il dipartimento delle persone scomparse. Se Jeffrey non fosse tornato a casa, entro la mattina seguente. L'atteggiamento generale dell'epoca è che i giovani e i bambini scomparsi avessero scelto di scappare, non che fossero vittime di omicidio. Due dei fratelli di Jeffrey dicono di aver visto un'auto blu nel vialetto di una casa che Jeffrey frequentava. Poco dopo la scomparsa di Jeffrey, alcuni suoi compagni di scuola riferiscono al preside che due uomini neri su un'auto blu avevano tentato di attirarli fuori dal cortile della scuola. Pensate che questi bambini avevano memorizzato la targa e quindi la comunicano alla polizia. Apparentemente questa pista non viene mai presa in considerazione o seguita. Il corpo di Jeffrey viene trovato nel febbraio del 1981 in un bosco. È impossibile determinare la causa della sua morte. La polizia continua a brancolare nel buio e nonostante i genitori delle vittime chiedano al commissario Lee Brown di ampliare le indagini su questi casi, questi continuano ad essere trattati come dei casi non collegati tra di loro. Ma tra la gente si sta spargendo la voce. Si arriva addirittura a dire che siano i poliziotti a uccidere quei bambini. Altri iniziano a ipotizzare che può essere implicato il Ku Klux Klan in questi omicidi e rapimenti. Arriviamo a me un'altra vittima ossia a Eric Middlebrook. Eric ha 14 anni ma dimostra meno anni della sua età. Vive con i suoi genitori adottivi su Howell Drive dato che sua madre naturale lo aveva abbandonato quando aveva 4 mesi. La sera del 18 maggio 1980 Eric risponde al telefono a casa sua intorno alle 10.30. Afferra i suoi attrezzi e dice a sua madre che sarebbe andato fuori davanti a casa per riparare la sua bicicletta. Viene trovato la mattina successiva accanto alla sua bicicletta nel garage dietro all'Op You Like It Bar in Flat Shoes Road. Forse è solo una coincidenza ma il dipartimento per la riabilitazione dei criminali della Georgia si trova proprio lì accanto. Le sue tasche sono a rovescio. Vicino al suo corpo ci sono diverse monetine oltre alla sua bicicletta. Aveva delle ferite sul collo, tre ferite superficiali d'arma da taglio sul petto e una ferita alquanto significativa sul capo. La causa della morte si rivelerà essere infatti proprio un trauma contusivo alla testa. Il funerale di Eric si tiene il 24 maggio 1980 e ahimè, sua madre biologica, che viveva nella Carolina del Nord, non ha partecipato al funerale di suo figlio. La polizia anche per quanto riguarda questo caso brancola nel buio. Inizialmente pensano che Eric sia caduto dalla bici, poi pensano che potrebbero avergli sparato. Dopo aver preso visione delle ferite ipotizzano che fosse stato vittima di una rapina, ma sono sempre solo ipotesi e anche alquanto campate per aria. Studiando meglio il cadavere si accorgono che la piccola vittima indossa delle scarpe di gomma e la suola ha un buchino in cui sono incastrate delle fibre. La polizia ipotizza che il bambino fosse stato ucciso e poi trascinato su qualcosa, ad esempio su una moquette, quindi fanno analizzare quelle fibre. La polizia intanto inizia a fare domande in giro per il quartiere, lavorano per ore e ore, arrivando alla conclusione che molti ragazzini di quel quartiere, che avevano delle biciclette, compreso Eric, erano soliti sbrigare delle faccende per i vicini al fine di recuperare qualche soldo. Per esempio vanno per loro al negozio di alimentari o a comprare le sigarette, ma c'è un però. Queste faccende vengono fatte sia di giorno che di sera e talvolta questi ragazzini fanno l'ultimo favore a qualche vicino anche alle 23 o a mezzanotte. Gli inquirenti si domandano perché qualcuno farebbe del male a un bambino. Insomma per loro è una situazione nuova perché ad Atlanta non c'erano mai stati così tanti omicidi di bambini, quindi i detective non possono far altro che partire dalle fibre perché è l'unico indizio che hanno. Negli anni 80 le tracce di sangue non erano probanti, così come non lo erano le fibre, ma erano comunque delle prove e dovevano essere esaminate e trattate come prove importanti perché non avevano altro da utilizzare. Così due detective, Buffington e Egan, portano le fibre nel laboratorio del Georgia Bureau of Investigation e le affidano al microanalista 24enne Larry Patterson. Il ragazzo conclude che quello che era stato trovato incastrato nella scuola delle scarpe di Eric era un ciuffetto di fibre con caratteristiche simili e il fatto che queste fibre erano nella parte bassa della scarpa è molto importante. Poteva indicare che il corpo era stato trasferito da poco da dove si trovava in origine. Da quei pochi e sottili fili Larry lavora per trovare una connessione e prendere il colpevole, ma passano solo una manciata di settimane e un altro bambino sparisce. Quel bambino si chiama Christopher Richardson. Il dodicenne Christopher vive con i nonni e la madre appena fuori dai confini della città di Atlanta, a Decatur. Il 9 giugno 1980 viene avvistato fuori da un fast food crystal vicino al centro commerciale Belvedere Plaza. È vestito con pantaloncini blu, una camicia azzurra e scarpe blu ed è diretto verso il Midway Recreation Center per nuotare con i suoi tre fratelli, ma non è mai arrivato. Chris, quando sta per uscire di casa, viene bloccato da sua madre perché non ha addosso dei vestiti adatti per andare in piscina. Infatti si è messo una camicia. Sua madre insiste dicendogli che deve cambiarsi, ma Chris fa i capricci e mette il muso. Nel frattempo i suoi fratelli escono senza di lui. Alla fine però sua madre si arrende e gli permette di indossare la camicia. Lo abbraccia e lo guarda mentre corre verso la piscina, mentre lei poco dopo esce per andare a lavorare. Quando torna a casa da lavoro trova i fratelli di Chris, ma non lui. Quando chiede spiegazioni su dove sia, i suoi fratelli dicono che non ne hanno idea. Loro alla piscina non l'hanno visto. Escono quindi per cercarlo insieme alla madre che chiede ai vicini se per caso qualcuno avesse visto Chris. La loro vicina di casa dice che aveva visto Chris in effetti, lo aveva salutato, lui aveva ricambiato il saluto e aveva continuato a camminare per la sua strada diretta alla piscina. Sembrava si fosse semplicemente dissolto nel nulla. Senza alcuna pista la polizia interroga la famiglia allargata di Chris, ma non lo cercano. I giorni diventano settimane e non c'è traccia del ragazzino. Chris non viene trovato fino al gennaio del 1981, quando il suo corpo viene scoperto in un bosco da un residente che viene avvisato del ritrovamento dal suo cane. I ricercatori della polizia che stanno per l'appunto cercando un altro ragazzo scomparso nelle vicinanze, vengono prontamente avvisati. Il corpo di Chris è coperto solo da un costume da bagno che non gli appartiene e giace accanto a quello di un'altra vittima, Earl Terrell, scomparso un mese dopo Chris. Accanto ai loro corpi sono state ritrovate delle riviste intime, un mozzicone di sigaretta e un nastro magnetico. Vengono prelevate delle impronte digitali dalle riviste, ma secondo la polizia risultano corrispondere a qualcuno che non era un forte sospettato nel caso. Non è possibile determinare la causa della morte. Questi casi evidenziano la disparità di trattamento frutto della società dell'epoca. Il concetto, ahimè, tremendo è che queste vite non valgono come le altre. Alcuni arrivano a chiamare le vittime, bambini usa e getta. La polizia indaga poco e male. Ci sono poche piste, è vero, ma quelle poche che vengono messe in evidenza, anche da alcuni cittadini e testimoni, non vengono battute. Arriviamo al crimine più sfrontato fino a quel momento che porta i casi degli omicidi dei bambini di Atlanta in prima pagina. La piccola vittima si chiama Latonia Wilson. Sono le prime ore del mattino del 22 giugno 1980, quando Latonia, di 7 anni, viene rapita dalla sua casa nel complesso di appartamenti di Hillcrest Heights, a Dixie Hill. Indossa una camicia da notte e biancheria intima, dorme accanto a sua sorella in una stanza in cui dorme anche suo fratello. Il suo rapitore deve scavalcare il letto di suo fratello per afferrare Latonia, quindi portare la bambina oltre la camera dei suoi genitori, prima di uscire dalla porta sul retro, che viene lasciata socchiusa. Il commissario della pubblica sicurezza, Lee Brown, ammette che effettivamente stanno avvenendo questi terribili omicidi, ma, di nuovo, non li considera insoliti e soprattutto continua ad essere convinto che non siano collegati tra loro. Per la comunità nera della città e per i parenti delle vittime, il quadro è molto chiaro e iniziano ad arrabbiarsi. L'interesse per la vicenda cresce dopo la creazione del comitato per fermare gli omicidi dei bambini da parte di tre madri, i cui figli erano stati assassinati, ossia Venus Taylor, Willie Mae Mathis e Camille Bell. La loro preoccupazione e i loro sforzi organizzativi attirano l'interesse dei media. La domanda è, perché nessuno sa niente di questi bambini? Perché sono bambini poveri? Quindi in quanto poveri devono rimanere nell'oblio? Di base però la verità è proprio questa, le famiglie sono povere e dunque non hanno mezzi potenti. Quando si hanno le possibilità si può fare molto più rumore e farsi sentire. Il 18 novembre 1980 il corpo di Latonia viene trovato in un'area boscosa molto vicina a casa sua. I suoi resti sono ridotti al solo scheletro e quindi non è possibile determinare la causa della morte. Jimmy Edwards ha 14 anni quando il cuginetto Anthony Carter, un bambino di 9 anni, si trasferisce di fronte al suo appartamento nelle case popolari di Harry's Home. Vive con sua madre ma fino a quel momento l'aveva cresciuto la nonna. I bambini delle case popolari spesso si trovano sotto casa e giocano tutti insieme. Il loro gioco preferito è Nascondino. Tutti adorano Anthony tra l'altro. Poi arriva il 6 luglio 1980, quel giorno sono in 40 a giocare. Anthony si va a nascondere dietro un edificio e sparisce. Tornano 39 ragazzi, tutti tranne Anthony. Prima di iniziare a contare Jimmy il cugino di Anthony nota un uomo che vende zucchero filato. Lo vede per un attimo, poi va anche lui dietro l'edificio e scompare. A quanto dice Jimmy, l'ha notato perché è un uomo particolare. Loro conoscono tutte le persone del vicinato, ma lui non l'aveva mai visto prima. Ovviamente quando Jimmy torna a casa, sua madre e la madre di Anthony hanno già parlato. Anthony è scomparso. Così la madre di Jimmy e la madre di Anthony iniziano a cercarlo, ma senza successo. Il suo corpo viene trovato il giorno successivo a meno di un miglio da casa sua, dietro un magazzino. Anthony era stato accoltellato a morte. Il suo caso è ancora ufficialmente risolto. Il 17 luglio, dopo continue pressioni da parte della comunità, il commissario Lee Brown annuncia la formazione di una task force. La task force a questo punto deve decidere quali casi inserire nelle indagini. Creano dunque un registro di tutti gli omicidi apparentemente collegati. Nasce così la lista, non senza difficoltà, perché non c'è mai stato un criterio univoco per inserire un caso. La prossima vittima a me si chiama Earl Terrell. Il 30 luglio 1980, Earl è di 10 anni, si dirige con alcuni amici alla piscina di South Bend Park. Dopo essersi comportato in modo inappropriato, un bagnino lo caccia fuori dalla piscina. Alcuni testimoni sostengono di averlo visto per l'ultima volta seduto fuori dall'area della piscina. Dopo la sua scomparsa, un ulteriore testimone riferisce di averlo visto fuori da una casa mentre cercava un amico. Un'altra persona ricorda di averlo notato mentre comprava dei gelati in un negozio di alimentari a un isolato da casa sua. E per finire c'è chi sostiene di averlo visto piangere in un angolo della città di Jonesboro, distante 18 miglia d'Atalanta. Come ci è arrivato? Il giorno seguente, il 31 luglio, la zia di Earl, che vive accanto a lui e alla sua famiglia, riceve una telefonata da un uomo con un accento del sud, che le dice di aver rapito Earl e di non chiamare la polizia. Chiama di nuovo in un secondo momento, nello stesso giorno, ripetendo che Earl è con lui in Alabama e vuole 200 dollari per il riscatto. Questo uomo sconosciuto dichiara che avrebbe richiamato nuovamente il giorno successivo, cosa che non avviene. L'indagine sulla scomparsa di Earl porta la polizia in un giro di pedopornografia che opera dall'altra parte della strada rispetto alla piscina di South Bend Park. Un uomo di nome John David Wilcoxen viene arrestato e condannato quando un enorme deposito di foto pedopornografiche di bambini viene scoperto in bella vista nella sua casa. Sebbene i testimoni abbiano affermato che Earl era stato più volte a casa di Wilcoxen, la polizia non credeva che ci fosse un collegamento tra il bambino scomparso e l'uomo, affermando che le foto raffiguravano solo bambini bianchi. Dopo che la zia di Earl aveva ricevuto una chiamata secondo cui il bambino era stato portato in Alabama e quindi oltre i confini di stato, l'FBI entra nell'indagine. Come avevo già accennato precedentemente, il suo corpo viene ritrovato in un bosco accanto a quello di Chris Richardson nel gennaio del 1981. La prossima vittima è Clifford Jones, il dodicenne non è nemmeno residente ad Atlanta, era partito da Cleveland per andare in visita presso sua nonna. Lui e suo fratello avevano iniziato a raccogliere lattine per ottenere dei soldi extra. Clifford viene visto l'ultima volta il 19 agosto 1980, agli incroci tra St. James e Lockout Avenue alla ricerca di lattine da vendere. Il giorno successivo, il 20 agosto 1980, il suo corpo viene trovato nel parcheggio dell'Hollywood Plaza Shopping Center, accanto a un cassonetto davanti a una lavanderia a gettoni. Dalla posizione del corpo, gli inquirenti ipotizzano che fosse stato lanciato da una macchina o da un furgoncino. Era vestito con dei pantaloncini da jogging rossi e blu che non erano suoi, così come le scarpe da tennis bianche. Non indossava biancheria intima. Aveva anche tagli e lividi attorno alla bocca ed era morto strangolato tramite una legatura. Proprio come Eric Middlebrooks, prima di lui Clifford ha addosso delle fibre visibili a occhio nudo. Sono delle fibre di moquette beige. Clifford le aveva sulla pelle, sui capelli e sui vestiti. Questo vuol dire che se i corpi venivano trasportati sul luogo del ritrovamento, lo facevano con un velicolo e da posti che potevano essere simili. Se le fibre trovate sulle diverse vittime dovessero coincidere, gli omicidi potrebbero essere collegati. Questa sarebbe la prima prova tangibile dell'esistenza di un solo assassino. Mentre Larry Patterson cerca di trovare delle prove che possano collegare le vittime, il commissario di Atlanta, Lee Brown, si rivolge all'FBI per chiedere aiuto. L'FBI offre un aiuto grazie alla nuova unità di analisi comportamentale. Nell'unità di analisi comportamentale ci sono degli psicologi che trasformano l'analisi criminale in una scienza. John Douglas e Roy Hazelwood delineano un profilo. La persona coinvolta negli omicidi deve essere qualcuno che conosceva bene il mondo dei media e dei notiziari. Forse monitorava addirittura la radio della polizia. Probabilmente aveva un'intelligenza superiore alla media ed era figlio unico. Uno degli elementi più sorprendenti del profilo dell'assassino è la sua razza. Roy Hazelwood pensava che l'assassino fosse nero, che fosse l'uomo insospettabile e quindi invisibile della comunità nera. E in effetti, chi poteva essere invisibile se non un altro uomo nero magari inserito nella comunità? Ma la polizia di Atlanta conclude che non è possibile che l'assassino sia nero perché di solito i serial sono uomini bianchi. Ma non è così. Oggi chiaramente posso dirvelo con più sicurezza perché non siamo più negli anni 80, ci sono più certezze e più strumenti per andare a fondo nelle indagini. Ma anche al tempo, prima degli omicidi di Atlanta, c'erano stati degli omicidi anche efferati e in alcuni casi i colpevoli erano individui neri. Insomma, l'idea che gli omicidi in serie fossero solo opera di uomini bianchi non è confermata dai fatti. Mentre gli investigatori faticano a trovare un sospettato. Il numero delle vittime continua a crescere. La prossima si chiama Daron. Ha 11 anni e vive a Memorial Drive con la madre adottiva. Il 14 settembre 1980 viene visto per l'ultima volta scendere da un bus della chiesa. Con indosso una maglietta gialla, pantaloni cacchi marroni e scarpe da tennis bianche. Daron non tornerà mai più a casa. La polizia presta pochissima attenzione alla scomparsa di Daron, in quanto il ragazzino era già scappato in passato. E le autorità presumevano che l'avesse fatto di nuovo. Sappiate che Daron è ancora disperso e non si sa dove si trovi attualmente. Poi ecco che arriva un'altra giovane vittima, Charles Stephens. Un dodicenne che vive con suo padre, sua madre e sua sorella. Scompare la sera del 9 ottobre 1980. Prima della sua scomparsa era stato accusato di furto e spaccio di sostanze. Era noto per frequentare i grandi magazzini Zaire presso lo Stewart Lakewood Shopping Center. La notte in cui Charles scompare, sta guardando la tv e disegnando a casa. Poi successivamente va a trovare un amico a Carver Holmes e viene notato da un vicino mentre gioca col suo skateboard. La mattina successiva il corpo di Charles viene trovato su una collina su Normanbury Drive, vicino all'ingresso del Longview Trailer Park, ossia un campo di caravan in periferia. È senza maglietta e gli manca una scarpa, ha segni di sfregamento sul naso e sulla bocca. La causa della morte di Charles è il soffocamento tramite un oggetto sconosciuto. Ogni omicidio accresce la frustrazione tra le forze dell'ordine e i cittadini. Ma per il Dipartimento di Atlanta continua a non esserci una firma di riconoscimento dell'assassino. Il sindaco Maynard Jackson offre una ricompensa di 100.000 dollari per qualsiasi informazione che avrebbe portato all'arresto degli assassini o dell'assassino. Nel frattempo si avvicina Halloween, dunque vengono aumentate le pattuglie. Ma il primo novembre scompare Aaron Jackson. È un bambino di 9 anni, vive con suo padre e i suoi fratelli, mentre sua madre risiede a Washington DC con altri due fratelli. Era amico di Aaron Wyke, scomparso a giugno. Gli piace nuotare al Thomasville Heights Recreation Center e il primo novembre 1980 Aaron scompare dal centro commerciale Moreland Avenue. Indossa una maglietta stampata, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica. Il suo corpo verrà trovato sotto un ponte nel South River, non lontano da dove era stato scoperto Aaron Wyke. Il medico legale ritiene che Aaron sia stato soffocato. Arriviamo al sedicenne Patrick Rogers. Patrick ama cantare e praticare il karate, è anche un grande fan di Bruce Lee e vive nelle case popolari di Thomasville Heights, vicino a dove Aaron Jackson amava nuotare. Patrick non solo conosceva Aaron Jackson e Aaron Wyke, ma aveva un legame con almeno altre 15 vittime, alcune delle quali neanche figuravano nell'elenco ufficiale. Il 10 novembre 1980 Patrick viene visto con suo fratello minore a una fermata dell'autobus. Suo fratello sale sull'autobus, ma quando ritorna non trova Patrick ad aspettarlo. Gli inquirenti chiaramente si chiedono se Patrick Rogers sia scappato di casa o se gli abbiano fatto del male. La sua famiglia pensa al peggio, ma la polizia di Atlanta e quella di Fulton County non prendono sul serio il caso tanto per cambiare, non agiscono abbastanza celermente tanto per cambiare. Ma torniamo indietro di qualche giorno. Il 6 novembre del 1980 l'FBI viene autorizzata a partecipare alle indagini sui casi di quattro ragazzi ancora dispersi. In effetti l'FBI ha giurisdizione sui casi di rapimento, quindi affrontano i casi come se fossero parte di questa categoria. E per carità i quattro ragazzi scomparsi potrebbero effettivamente essere stati rapiti. Così tutto riparte da zero, ossia dalla prima scomparsa, e revisionano tutto il materiale raccolto fino a quel caso. Ma alla fine di tutta questa rigorosa attività investigativa continuano a non avere idea di cosa stia succedendo. La famiglia di Patrick Rogers e le altre coinvolte nelle sparizioni nel frattempo vivono in un costante stato di depressione e terrore. Il 21 dicembre 1980 il corpo di Patrick viene trovato a faccia in giù nel fiume Chattahuce, vicino al ponte Peace Ferry Road, nella contea di Cobb. È morto per una frattura cranica. Arriva Natale e la coltre di tristezza che si crea nella comunità non fa altro che intensificarsi durante le feste. Quel senso di inquietudine fa passare tutto in secondo piano, anche il Natale. Alla fine del 1980 la città istituisce un coprifuoco che impedisce ai bambini sotto i 15 anni di stare in strada tra le 23 e le 9. Viene inoltre avviata una campagna sociale che va in onda di notte su tutte le principali reti nell'area di Atlanta. All'inizio del 1981 l'intervallo di tempo tra le scomparse di un bambino e il suo ritrovamento inizia a ridursi sempre di più. All'inizio colpiva una volta ogni due mesi più o meno, poi diventa una volta ogni due settimane e, la task force, non riesce a fare passi avanti. Poi, ecco che arriva un'altra vittima, l'Ubby Jeter. Il 14enne, come molte vittime precedenti, trasporta generi alimentari ai suoi vicini per ottenere soldi extra e lavora al National Pride Car Wash Home Memorial, dove vende deodoranti per ambienti. Viene visto l'ultima volta allo Stewart Lakewood Shopping Center il 3 gennaio 1981. Stava vendendo deodoranti per auto fuori dal negozio di alimentari Big Star. Le autorità a questo punto convengono sul fatto che avrebbero dovuto cercare a fondo nei luoghi dove venivano abbandonati i corpi nella zona di Atlanta. La polizia ormai sa quali sono. Iniziano quindi a setacciare quelle zone, quando un detective si addentra in un'area boscosa e nota in lontananza qualcosa che sembra una bottiglia di latte. Ma, avvicinandosi, si rende conto che quella non è una bottiglia di latte, ma un teschio umano. Trovi i resti scheletrici di due persone ed è a questo punto che le autorità prendono coscienza del fatto che non possono più raccontarsi scuse. C'è un serial in giro ed è ora che si diano una mossa. Devono catturarlo. I resti trovati nel bosco appartengono a Earl Terrell, che viene trovato nel gennaio del 1981 insieme a un corpo identificato, Christopher Richardson. I poveri ragazzini di cui avevamo già parlato prima. Non è ahimè possibile determinare la causa della morte. Ma sui resti dei due ragazzi vengono trovate fibre simili, quindi le loro morti potrebbero essere collegate. E quindi ora la sfida consiste nello scoprire se quelle stesse fibre corrispondono a quelle trovate su altre vittime in precedenza. Il microanalista Larry Patterson spiega che per prima cosa ha intenzione di cercare le fibre verdi di un tappeto, che sono fibre trilobate e quindi molto particolari. Se bisogna cercare la casa o l'ambiente di un sospettato, questo genere di materiale collega inevitabilmente i casi, così come collega l'ambiente dove opera il sospettato, a questo gruppo di vittime. Isaac Rogers, il fratello di Patrick Rogers, non dimenticherà mai l'incontro con uno strano uomo nel suo quartiere. Infatti una sera Isaac si reca al negozio del quartiere, più precisamente si tratta di un negozio in cui si vendono anche delle caramelle ed è gestito da una signora molto gentile di nome Willie May. Proprio mentre Isaac scende le scale per tornare a casa, spunta fuori questo uomo che gli impedisce di scendere le scale. Isaac quindi va immediatamente nel panico. Ha sette anni, è sera, e suo fratello è già stato ucciso. Quindi si gira e torna a bussare alla porta della signora Willie May. Dà colpi alla porta e chiama la donna esclamando, è lui, è lui, si sbrighi! Intanto il tizio inizia a salire le scale con molta calma. Fortunatamente la signora Willie May apre la porta, gli dice di non preoccuparsi, lo tranquillizza e lo abbraccia. Intanto l'uomo sconosciuto sale fino al portico e si ferma a meno di due metri da Isaac e Willie May. L'uomo in effetti si comporta come se volesse farsi vedere da Isaac, se questo è il suo obiettivo, ci riesce. La capegliatura dell'uomo è irregolare, indossa piccoli occhiali con una montatura sottile e indossa una giacca di tweed con le toppe sui gomiti. L'uomo guarda Isaac e Willie May, poi scende dal portico, gira intorno al palazzo e scompare. Luby viene ritrovato il 5 febbraio 1981, ma la polizia inizia le indagini solo due giorni dopo la scoperta del corpo. L'ultima volta che è stato visto, Luby indossava un cappotto viola, una camicia verde, blue jeans e mocassini marroni. Quando viene trovato, il suo corpo è vestito solo con le mutande. I suoi blue jeans e la sua cintura vengono trovati in una borsa a quasi un miglio di distanza. La sua maglietta e le sue scarpe sono a 300 metri di distanza. Il medico legale stabilisce che è morto a causa di uno strangolamento manuale. A questo punto tocca a Terry Pue. Il quindicenne Terry viene visto l'ultima volta il 7 gennaio 1981, quando suo fratello lo vede salire a bordo di un autobus in Hollywood Road, intorno alle 15. Terry chiede a un vicino di giocare a basket con lui, ma a causa della pioggia il vicino rifiuta. Così Terry prende l'autobus e non torna più a casa. Il 22 gennaio 1981 il corpo di Terry viene trovato vicino all'Interstate 20, su Sigman Road, nella contea di Rockdale. Non dalla polizia, ma da un passante. Sul corpo vengono trovati peli di cane, ha delle abrasioni su un gomito e dei lividi sulla testa. Era morto per strangolamento tramite una legatura. Pochi anni dopo, nella stessa area, verranno trovati altri resti scheletrici che però resteranno sconosciuti. Arriviamo ora a Patrick Baltasar. Prima della sua scomparsa, all'undicenne Patrick vendeva giornali, lavava i piatti al Papa's Country Buffet e faceva le pulizie al ristorante Fisherman's Cove. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1981, Patrick e un suo amico hanno appena finito di giocare ai videogame nella sala giochi del centro, quando vengono avvicinati da uno sconosciuto. È un uomo alto, ben piazzato, che guida una vecchia auto. L'uomo accosta e chiede a Patrick e al suo amico se per caso vogliono un passaggio. Patrick però resta in guardia e dice al suo amico che quello potrebbe essere il serial che sta terrorizzando Atlanta. Così si dirige verso una cabina telefonica pubblica e chiama la task force per descrivergli l'uomo e per dirgli che quella persona a bordo di una vecchia auto li sta seguendo. Gli rispondono che una volante sarebbe arrivata a breve. L'amico di Patrick però si stanca di aspettare la polizia e quindi se ne va e torna a casa. Patrick invece rimane ma non arriva nessuna volante. Infatti i poliziotti sono convinti che la sua telefonata sia uno scherzo. Quella è l'ultima volta in cui Patrick viene visto. Poche ore dopo, il 6 febbraio 1981, il suo corpo viene scoperto nel complesso di uffici aziendale di Corporate Square tra l'Interstate 85 e la Bufford Highway. Sul corpo vengono trovati graffi, lividi e peli di cane. Patrick era morto per strangolamento dato da una legatura. Una corda, forse l'arma del delitto, gioceva accanto al suo corpo. Patsy Jackson, un assistente dentale che lavorava in uno degli edifici, riferisce di aver visto una Chevy in pala verde chiaro parcheggiata sotto gli uffici intorno alle 7.15 quella mattina. L'occupante dell'auto è un uomo bianco, sulla ventina, con capelli castani lunghi fino alle spalle, piccoli baffi e occhi ravvicinati. Indossa una camicia a quadri di flanella e la fissa mentre esce dalla macchina ed entra nell'edificio. Quando guarda fuori dalla finestra del suo ufficio qualche minuto dopo, l'auto è sparita. Poche ore dopo, un addetto alla manutenzione scopre il corpo di Patrick. Parliamo ora di Curtis Walker. Il tredicenne Curtis risiedeva a Thomasville Heights, dove viveva la precedente vittima, Patrick Rogers, prima di trasferirsi più vicino alla Bankhead Highway, con sua madre, suo zio e i suoi fratelli. Viene visto per l'ultima volta in cerca di lavoro il 19 febbraio 1981, in un negozio di armi sulla Backhead Highway, dove lui e suo fratello minore spesso raccoglievano spazzatura per guadagnare dei soldi. Da lì si dirige verso un centro commerciale vicino all'incrocio di Hightower Road e scompare. I cani da ricerca rilevano il suo odore dietro la Center Hills School, sulla Bankhead Highway, ma perdono presto le sue tracce. Curtis viene trovato il 6 marzo 1981 nel South River. Un pompiere che attraversa il fiume nota il corpo che era rimasto impigliato in un tronco. Tutti i vestiti di Curtis, escluse le mutande, sono scomparsi. Sul corpo vengono trovate delle impronte digitali latenti. La causa della morte è segnalata come strangolamento, forse con una corda. Un testimone afferma di aver visto una vecchia Chevy Verde parcheggiata vicino alla scena del crimine qualche giorno prima della scoperta. Per una triste coincidenza, lo zio di Curtis, Stanley Murray, viene ucciso a colpi di arma da fuoco nello stesso anno, a 21 anni. Parliamo ora di un'altra vittima. Il piccolo Joseph O. Jojo, come era conosciuto, aveva vissuto una vita difficile prima del 1981. Sua madre era in prigione per aver ucciso suo padre e Jojo viveva con sua nonna. Il 15enne va al John Harland Boys Club e lavora al Cap'n'Peggs Seaford quando non frequenta la scuola. Scompare il 2 marzo 1981 dopo aver giocato a basket con un'amica alla Agnes Jones School. Il 19 aprile 1981 Jojo viene ritrovato da due motociclisti che stanno testando un nuovo sentiero nella contea di Rockdale, vicino al fiume South. Come Curtis Walker, Jojo indossa solo le mutande e la causa della morte è l'asfissia. Arriva ben presto un'altra vittima, Timothy Hill. Il 13enne Timothy conosceva molte delle precedenti vittime. Oltre a Jojo Bell conosceva anche Patrick Baltasar, Patrick Rogers, Anthony Carter e forse Alfred Evans e Jeffrey Mathis. Aveva dei parenti che vivevano dall'altra parte della strada rispetto a dove aveva vissuto Eric Middlebrooks. L'11 marzo 1981 dopo aver giocato con sua nipote, Timmy si allontana dal cortile. Il vicino di casa di Tom Terrell riferisce di aver visto Timmy in Grey Street il 10 marzo, il giorno prima della sua scomparsa. Timmy viene trovato il 30 marzo 1981 nel fiume Chattahoochee da dei canoisti che stanno pescando. Intanto nel marzo del 1981 i media confermano che gli investigatori stanno ricostruendo un legame tra le fibre e i peli di cane ritrovati sulle vittime. Prima di allora non viene data alcuna indicazione alla popolazione sul fatto che i casi fossero collegati in alcun modo, ma ora finalmente individuano questo elemento. Gli omicidi però non si fermano. Il corpo di Timmy non ha vestiti tranne la biancheria intima. La causa della morte è asfissia. A questo punto ecco che arriva un'altra vittima, Eddie Duncan. Eddie ha lo sfortunato primato di essere il primo adulto aggiunto all'elenco delle vittime. Ha 21 anni e vive con sua madre a Tetchwood. Lavora in una piccola drogheria ai margini di Tetchwood e fa lavori saltuari da un barbiere locale e in un negozio al dettaglio lì accanto. Eddie ha alcuni handicap fisici e intellettuali. Era amico di Patrick Rogers e secondo quanto riferito di Timmy Hill. Il 20 marzo 1981, intorno alle 14, sale a bordo di un autobus per lasciare un po' di abiti al lavaggio a secco per un amico. Poi dovrebbe incontrare lo stesso amico al Courtney's Game and Things, dove Eddie fa alcuni lavoretti. I registri indicano che Eddie non lascia il lavaggio a secco fino alle 18 e non si presenta da Courtney's Game and Things. Eddie viene visto l'ultima volta mentre saliva in macchina con un maschio dalla pelle chiara. All'angolo tra Tetchwood Drive e North Avenue, vicino al ristorante Varsity. Il 31 marzo 1981, Eddie viene trovato nel Chattanucci, a pochi metri da dove era stato trovato Timothy Hill 24 ore prima. Il suo corpo era coperto solo dai boxer. La causa della morte è indeterminata. La prossima vittima è Larry Rogers. Il secondo adulto ad allungare la lista delle vittime è Larry, 20 anni, che vive con il padre adottivo su Ezra Church Drive. Larry viene visto l'ultima volta nel pomeriggio del 30 marzo 1981, mentre sale su una station wagon Chevy verde sbiadito, guidata da un uomo dalla pelle chiara. Due settimane dopo la sua scomparsa, Larry viene trovato nella cucina di un appartamento di un edificio abbandonato in Temple Street. Larry viene visto l'ultima volta in jeans e giaccavento. Quando viene trovato, indossa un costume da bagno bianco sotto pantaloncini da jogging blu e una maglietta blu infilata nei calzoncini. Dal corpo vengono recuperati anche dei peri di cane. È morto per strangolamento. La prossima vittima si chiama Michael McIntosh, a 23 anni. In passato ha avuto problemi con la giustizia, scontando una pena dal 1976 al 1979 per furto con scasso, rapina a mano armata, ricettazione, possesso di sostanze e tentata violenza intima. Si dice che avesse praticato la box insieme a Jojo Bell. Michael è omosessuale e pare abbia trascorso del tempo a casa di Tom Terrell in Grey Street. Presumibilmente conosceva Timmy Hill e Nathaniel Carter, che sarà l'ultima vittima ufficiale. Il 24 marzo 1981 Michael lascia il suo lavoro presso la Milton Foundry e non torna più. Michael viene visto l'ultima volta lasciare il negozio e dirigersi verso il Chattahoochee. Il 20 aprile 1981 il corpo di Michael viene estratto dal Chattahoochee dopo essere stato notato da un contadino locale. Il corpo è nudo e la causa della morte è una sfissia. Arriviamo a un'altra vittima di nome John Porter. Come Mikey McIntosh, John Porter è un ex detenuto. Il 27enne soffre di problemi mentali e per questo motivo aveva trascorso del tempo in un ospedale psichiatrico. Vive a lungo con la nonna che però lo caccia di casa non molto tempo prima del suo omicidio, dopo che lo sorprende a mostrare un po' troppe attenzioni indesiderate nei confronti di un bambino di cui si prendeva cura mentre lavorava come babysitter. John a questo punto si trasferisce con sua madre vicino ad uno stadio, anche se non va molto d'accordo con lei. John viene trovato senza vita il 12 aprile 1981 in un lotto libro in Bender Street. È stato accoltellato per sei volte. Arriviamo ora a Jimmy Ray Payne. Il 21enne, come John Porter e Eddie Duncan, aveva scontato una pena detentiva fino alla fine del 1980 per un'accusa di furto con scasso. È un uomo magro, alto poco più di un metro e sessanta e soffre di depressione. Al momento della sua scomparsa è sotto le cure di un medico e, secondo quanto è riferito, aveva tentato il suicidio già due volte. Il 22 aprile 1981, Jimmy dice a sua sorella che è dietro all'OMNI per cercare di vendere alcune vecchie monete. L'OMNI è un negozio. Lascia la casa nei Vine City Terrence Apartments vestito con una tuta da jogging rossa e scarpe da tennis bianche. Quel pomeriggio avrebbe dovuto incontrare la sua ragazza alla fermata dell'autobus di Vine City. Jimmy l'aveva lasciata lì quella mattina, ma non era tornato come previsto. Il 27 aprile 1981, meno di una settimana dopo la denuncia della sua scomparsa, Jimmy viene trovato da una coppia che pesca nel Chattahoochee. Indossa solo i pantaloncini rossi. La causa della morte è indeterminata. Il medico legale ritiene che Jimmy possa essere stato in acqua per l'intera durata della sua scomparsa. Parliamo ora di un'altra vittima. In me queste vittime, come vedete, non finiscono mai, sono tantissime. E il prossimo in me è William Barrett. Il 17enne detto Billy Star è già un delinquente quando scompare l'11 maggio 1981. Ha precedenti che includono aggressione aggravata, possesso di sostanze, furto e ricettazione. Passa un periodo in un centro giovanile a Milledville nell'ottobre del 1980 e viene ammesso al Dipartimento di Reabilitazione dei Criminali della Georgia. Forse non a caso, il corpo di Eric Middlebrooks viene trovato accanto al Dipartimento per la Riabilitazione dei Criminali della Georgia. Billy Star era legato alla precedente vittima, Luby Jeter. Billy viene visto l'ultima volta al McDaniel Glen Housing Community Center, mentre paga un conto per sua madre. Questo è lo stesso centro sociale in cui si trovava Patrick Rogers, un suo amico. Il 12 maggio 1981, un giorno dopo la sua scomparsa, il corpo di Billy Star viene trovato nei pressi di un'area boscosa vicino all'Interestatale Venti e Glenwood dagli agenti dell'FBI. È completamente vestito, manca solo la giacca di jeans. Sul corpo vengono trovati peli di animali bianchi. Inoltre Patrick ha ancora nella tasca dei pantaloni un coltellino tascabile da Boy Scout. La causa della morte è lo strangolamento. A questo punto l'agente Mike McComas e il suo partner creano un piano. Mike McComas vive vicino a un fiume, quindi sa che quando qualcuno getta qualcosa nell'acqua, dalla riva del fiume, se non viene catturato dalla corrente principale, torna necessariamente a riva. Così Mike si chiede se l'assassino getta i corpi senza vita da un ponte. Così concordano di controllare proprio i ponti. L'FBI, la polizia e la task force uniscono le loro forze. Piazzano delle persone sotto ai ponti, due da un lato del fiume, due dall'altro. Piazzano anche delle pattuglie sul ponte. L'idea è quella che, se qualcuno si fosse fermato sul ponte e avesse lanciato qualcosa, gli agenti sotto al ponte avrebbero contattato le pattuglie che erano sopra al ponte. L'appostamento è previsto per 30 giorni. Col passare delle settimane, i leader economici della città devono affrontare la pubblicità negativa. Il turismo cala e l'indagine ancora sembra non fare passi avanti. L'ultima sera, il 29esimo giorno, le autorità dicono che non stanno ottenendo risultati. Questa trovata quindi rappresenta solo uno spreco del personale e nient'altro. Ormai è maggio e ad Atlanta fa caldo ed è umido. Sono le 3 del mattino, più precisamente le 2.55, quando i detective sentono un tonfo nell'acqua. La gente che si trova sotto il ponte di James Jackson Parkway dice attraverso la radio «Ho sentito un tonfo e vedo l'acqua muoversi». Dopodiché chiede se per caso è presente un'auto sul ponte. E in effetti c'è una vettura sul ponte che si sta allontanando in fretta. Gli agenti seguono una station wagon bianca per alcuni chilometri e la fermano mentre attraversa un altro ponte sulla I-285. Il detective Mike McComas riesce a identificare il guidatore come Wayne Bertram Williams, di 23 anni. Wayne è al posto del guidatore e ha il finestrino abbassato. Così l'agente si presenta, dice di essere dell'FBI e gli chiede se per caso sa il motivo per cui l'hanno fermato. Wayne senza dubbi risponde «Sì, è per gli omicidi di quei bambini, vero?». L'agente gli chiede il permesso di perquisire il suo veicolo e lui ha consente. Sul sedile posteriore ci sono dei guanti di pelle con l'interno di lana e una torcia. Insomma, non c'è nulla di che. Poi però l'agente guarda meglio e nota che stesa sul pianale dell'auto c'è una corda di nylon, è intrecciata e bianca. Wayne si dimostra tranquillo, si presenta e sostiene di essere un talent scout. L'agente dunque gli chiede cosa ci faccia lì e Wayne risponde di dover incontrare due sorelle. Una di loro è Cheryl Johnson, con la quale ha un appuntamento il giorno successivo, verso le 10. Vivono negli Spanish Trace Apartments e lui è in cerca del loro indirizzo, così non avrebbe fratto tardi la mattina successiva. Per l'agente Mike McComas quella storia non ha il minimo senso, sa che Wayne gli sta raccontando una bugia, lo capisce. Così l'agente continua a interrogarlo, mentre altri agenti li perquisiscono la macchina, ma non trovano nulla di particolare. E Mike non sa cos'altro chiedergli, quindi lo lascia andare. L'unica prova che hanno è quella di aver sentito un tonfo nell'acqua. Nient'altro. C'è però un problema. Gli agenti lo lasciano andare senza confiscargli niente di ciò che aveva in macchina. Arriviamo dunque all'ultima vittima di questo toccante e doloroso caso, Nathaniel Cater. Il 27enne, fino al 24 aprile 1981, viveva con suo padre nello stesso edificio da cui era stata rapita la vittima, la Tonya Wilson, in Verbena Street. Ma dopo l'accaduto si trasferisce al Falcon Hotel in Lucky Street. Nathaniel è noto per essere un alcolizzato e uno spacciatore. Secondo un testimone aveva ammesso di aver donato il suo sangue, venduto il suo corpo e della sostanza per soldi. Viene visto l'ultima volta il 21 maggio 1981. L'addetto alla reception del Falcon Hotel lo nota per l'ultima volta intorno alle 15. Il giardiniere Robert Henry riferisce di aver visto Nathaniel tenersi per mano con un uomo di nome Wayne Williams all'ingresso del teatro Rialto in Forsyth Street. Nathaniel sarebbe anche stato avvistato mentre lasciava la Cameo Lounge diretto alla stazione degli autobus vicino all'allora Central City Park, che ora si chiama Woodruff Park. Il corpo di Nathaniel viene trovato il 24 maggio 1981 mentre galleggiava nel Chattahoochee. Il medico legale ha stabilito che Nathaniel era morto a causa di asfissia, ma non è stato nemmeno in grado di dire in modo specifico da quanto tempo il corpo fosse rimasto in acqua. A questo punto gli agenti capiscono che Wayne è implicato negli omicidi. Le autorità mettono Wayne Williams sotto sorveglianza e iniziano a scavare nel suo passato. È figlio unico, nato da due insegnanti, era un bravo bambino ed era molto amato. A 16 anni avvia la sua stazione radiofonica dalla casa dei suoi genitori, cosa che gli porta una copertura mediatica e il sostegno della comunità. Si diploma a liceo con l'Ode e inizia a frequentare la Georgia State University, ma abbandona i suoi studi per un anno. Appare con il futuro capo della NAACP, Benjamin Hooks, sulla rivista Jet e trascorre la maggior parte del suo tempo a commercializzare la propria stazione radio e a cercare di promuovere i talenti locali. Wayne cerca infatti di sfondare nell'industria musicale e nel frattempo svolge lavori saltuari per supportare la sua stazione radio. Intanto diventa un produttore musicale, vuole trovare nuovi Jackson 5, quindi cerca dei giovani da portare in studio per formare il suo gruppo. Tramite la radio continua a tentare di attirare dei giovani talenti musicali, ma gli investigatori scoprono ben presto che non solo la carriera musicale di Wayne è fallita, ma ha anche portato i genitori alla bancarotta. Ciò lo costringe a fare ogni genere di lavoro, così inizia a fare il cameraman e a vendere filmati di incidenti automobilistici, incendi e persino di un incidente aereo alle stazioni televisive locali per soldi. Wayne inoltre aveva uno scanner radio della polizia che gli permetteva di raggiungere le scene degli incidenti, a volte addirittura prima dell'arrivo della polizia per l'appunto. Nonostante ciò, continua ad affermare di avere collegamenti e importanti accordi discrografici in cantiere, il che non è vero, è una bugia. Williams inoltre aveva una vecchia auto della polizia che aveva equipaggiato con delle luci lampeggianti sul cruscotto, quindi si fingeva un poliziotto. Viene infatti arrestato per essersi spacciato per un agente e per uso non autorizzato di un veicolo della polizia. Vivendo ancora a casa dei genitori a 22 anni, Wayne aveva pochi amici e si diceva che fosse omosessuale. Il 3 giugno del 1981 l'FBI convoca Wayne Williams per un interrogatorio, mentre gli agenti eseguono un mandato di perquisizione per la sua casa e le automobili di Williams. L'esperto di fibre, Larry Peterson, viene chiamato sulla scena, chiaramente. L'uomo aveva localizzato migliaia di fibre raccolte dalle vittime degli omicidi, concentrandosi su tre varietà che continuavano a riapparire. Una rara fibra verde trilobata, una fibra viola acetata e i peli di un pastore tedesco. Gli agenti quindi entrano in casa di Wayne passando dal garage e quando arrivano nella sua camera notano che il pavimento è ricoperto di moquette verde. Inoltre hanno un pastore tedesco e il copriletto della camera da letto di Wayne è di acetato viola. Larry Peterson raccoglie alcune fibre dalla moquette verde per portarli in laboratorio, anche perché se fossero state le fibre ritrovate sulle vittime le avrebbe riconosciute immediatamente. E in effetti è ciò che accade. Quelle fibre sono le stesse trovate su alcune vittime. Alcune, non tutte, attenzione. Mentre la perquisizione prosegue in casa sua, Wayne viene portato al quartier generale dell'FBI e viene sottoposto al poligrafo. Gli vengono poste delle domande dirette come ad esempio Hai causato la morte di Nathaniel Carter? Wayne risponde sicuro No! Hai gettato il suo corpo nel fiume quella notte, ovvero la notte in cui ti abbiamo fermato? Di nuovo la risposta è chiara. No! L'ha detto guarda il poligrafo e conclude dicendo che io sia dannato, tu sei proprio l'uomo che stiamo cercando. Wayne però ribatte dicendo che il poligrafo non è ammesso in tribunale. Inoltre non è un test affidabile se fatto a seguito di un intenso interrogatorio. In effetti Wayne aveva ragione. Ma la polizia è convinta di aver trovato l'uomo giusto visto che il test del poligrafo, Wayne, l'ha fallito. Eppure il ragazzo continua a girare per l'ufficio affermando Spavaldo Non avete prove contro di me. Se le aveste non staremmo parlando. Sarei già manettato. Questo conferma la polizia che Wayne è un ragazzo dalla personalità particolare ma non possono incriminarlo perché non aveva violato alcuna legge federale. Per il procuratore le prove non sono sufficienti così devono per forza lasciarlo andare. Resta comunque il principale sospettato dell'FBI per gli omicidi avvenuti ad Atlanta. Il giorno dopo aver fallito il poligrafo, al posto di tenere un profilo basso, Wayne convoca una conferenza stampa. In effetti l'FBI non l'ha mai definito un sospettato ma le telecamere della tv non mostrano il suo volto ma quelli dei giornalisti che per l'appunto intervistavano questa voce ignota. Intanto Wayne durante la conferenza stampa fa girare il suo curriculum in cui sostiene di aver pilotato degli F-15, di essere un pilota di auto da corsa e altre cose alquanto assurde. Quelle infatti sono tutte bugie, chiaramente. Wayne è convinto che una volta interrogato l'agente avrebbe capito che era innocente perché se fosse stato lui qualcuno lo avrebbe visto. Dice spesso, tutti in questa comunità mi conoscono, tutti sanno chi è Wayne. In effetti passavo inosservato proprio perché faceva parte di quella comunità. Tutti i politici locali conoscevano Wayne Williams e anche la polizia di Atlanta conosceva bene Wayne Williams. L'FBI nel frattempo afferma di aver ottenuto corrispondenze tra le fibre e i peri trovati su alcune delle vittime e le fibre presenti a casa dei Williams e i peli del loro cane. Quando il procuratore distrettuale della contea di Falton si dimostra cauto nel perseguire Williams sulla base delle sue prove delle fibre, compaiono nuovi testimoni. Dicono di aver visto Williams con varie vittime o Williams con addosso dei graffi e tagli piuttosto importanti. A questi testimoni non viene chiesto perché non si fossero fatti avanti con le loro informazioni prima che Williams fosse nominato come sospettato, specialmente grazie alla copertura mediatica. Il 21 giugno 1981, dopo quasi due anni di terrore, Wayne Williams viene arrestato, ma solo per due omicidi, quello di Jimmy Rainn Payne e di Nathaniel Catter. Quindi c'è un problema. Wayne Williams viene accusato dell'omicidio di due ragazzi adulti, non c'è nessun bambino. Quindi molti si chiedono se abbiano preso l'uomo giusto. Il 22 luglio 1981 il giudice Clarence Cooper viene scelto casualmente per presiedere al processo. Il procuratore è Lewis Layton. Il team legale dell'accusa è guidato da Jack Mallard, mentre Gordon Miller si sarebbe occupato delle fibre. I difensori di Wayne Williams sono l'avvocato penalista Al Binder e un ex difensore di ufficio al primo processo per omicidio, una donna che si chiama Mary Welcom. Mary porta avanti l'idea che Wayne non è in grado di commettere tali crimi riferati. Non mi è ben chiaro però su quali basi. Non lo spiega. La selezione della giuria inizia il 28 dicembre 1981. Nove donne e tre uomini avrebbero costituito la giuria che avrebbe ascoltato le prove nel processo. Otto giurati erano neri e quattro bianchi. All'inizio del processo l'uomo è accusato dell'omicidio di due adulti. Ma è un anno e mezzo che si parla di bambini rapiti e uccisi. Quindi come si poteva convincere la giuria che fosse collegato a quei casi? L'accusa in effetti rende palese fin da subito di essere intenzionata a presentare delle prove che collegano Wayne ad altre dieci vittime. Fin dall'inizio degli omicidi gli agenti selezionano quello che possiamo definire un campione del serial di Atlanta. Questo campione mette in relazione le vittime che sono morte tramite la stessa modalità o le vittime su cui sono state trovate le fibre. Questo campione include ragazzini neri, famiglie povere, case distrutte, criminali di strada, vittime morte per asfissia. Ma le vittime di Williams non erano tutti maschi, non provenivano tutti da famiglie distrutte, non erano tutti criminali di strada, non erano morti tutti asfissiati. I due omicidi per i quali Williams era stato accusato e processato avevano dei corpi di ragazzi adulti trovati in acqua senza vita. Il giudice però concede all'accusa di invocare la dottrina sui presunti precedenti reati. Secondo un principio generale non si possono presentare prove solo per dimostrare che l'imputato o l'imputata è cattivo o cattiva. Ma se esiste una serie di crimini collegati e simili al punto tale che le prove di uno si legano ad un altro e poi ad un altro ancora, allora quelle prove sono ammissibili. La giuria dunque viene informata anche degli altri omicidi. È a questo punto che il vero caso degli omicidi dei bambini di Atlanta arriva in tribunale. Con il permesso del giudice di presentare la prova di altri dieci omicidi, l'accusa infligge un duro colpo alla difesa di Wayne, in quanto lo sottopongono a processo per dei crimini di cui non era stato accusato. L'accusa a questo punto è libera di costruire il suo caso sulle fibre, prove sicuramente interessanti ma complesse da comprendere. Le fibre trovate sui corpi di alcune vittime corrispondono alla moquette trovata nella casa dei Williams ed è assolutamente impossibile che le vittime non fossero mai state lì. Quello che trascurano di menzionare è che avere in casa un grosso tappeto oppure la moquette non era raro. Ed è vero. Insomma, la moquette può essere facilmente trovata in molte residenze, appartamenti e uffici commerciali in tutta l'area di Atlanta. Inoltre suggeriscono che il trasferimento delle prove avveniva quando le fibre aderivano alle vittime e o ai loro vestiti, ma non spiegano come le fibre delle vittime non fossero mai state scoperte nella casa di Wayne Williams o nella sua auto. La difesa fa del suo meglio per mettere in dubbio il fatto che Jimmy Payne e Nathaniel Catter fossero morti perché uccisi da Wayne Williams. Jimmy Payne aveva tentato il suicidio due volte e Nathaniel Catter era un noto alcolista e aveva dei problemi con le dipendenze. Inoltre sono anche adulti, il che non corrisponde alla teoria dell'accusa sul movente. Wayne Williams odiava i giovani neri. Williams prende posizione per difendersi dalle accuse dello Stato. Afferma che non sarebbe stato in grado di fermare la macchina così rapidamente sul ponte per hissare il corpo di Nathaniel Catter dal retro dell'auto e gettarlo oltre il guardrail, alti fino alle spalle di un uomo. Non solo il tempismo non funziona, in base ai ricordi degli agenti di polizia, ma per di più Nathaniel Catter è più grande e più pesante di Williams. Sfortunatamente per Williams il pubblico ministero Mallard riesce a farlo arrabbiare e a irritarlo, così Williams insulta gli agenti che si erano occupati del caso. La sua collera ovviamente non va a braccetto con la giuria e i suoi avvocati non sono in grado di ribaltare la situazione. Probabilmente avrebbe fatto comunque poca differenza, chiariamo. Lo Stato ha montagne di prove e molti, molti testimoni da chiamare per deporre e alimentare la convinzione per cui Williams è il mostro che rapiva e uccideva i bambini e i giovani adulti di Atlanta. La qualità di quelle prove tuttavia non sembra mai essere veramente messa in discussione e Wayne Williams viene ritenuto colpevole dell'omicidio di Jimmy Payne e Nathaniel Catter. Viene quindi condannato a due ergastoli e il dipartimento di polizia di Atlanta annuncia che i 22 dei 29 casi sono definitivamente collegati a Williams. Quasi già dal momento in cui Wayne Williams viene condannato per omicidio sorgono diversi dubbi sulla sua colpevolezza. Molti abitanti di Atlanta neri, compresi i familiari delle vittime, credono che ci sia una cospirazione. Il governo e le autorità locali vogliono semplicemente chiudere il caso. Gli omicidi, d'altro canto, erano stati una cattiva pubblicità per la città in crescita che nel 1981 era stata incoronata con il triste titolo della Capitale degli Omicidi degli Stati Uniti. Quindi chiudere tutta questa faccenda era la cosa migliore per tutti gli interessati. In verità Wayne Williams è un terribile testimone. Diciamolo, perde la pazienza al banco di testimoni e non ha una buona ragione per spiegare il motivo per cui si trovava sul ponte quella notte. Ma non c'è una sola persona che potesse testimoniare di averlo visto. Anche solo, perdere la pazienza con un bambino. Figuratevi averlo visto aggredire o uccidere una delle vittime. È stato solo un tentativo o, secondo alcuni, persino un errore legale collegarlo ai casi di Eric Middlebrooks, John Porter, Alfred Evans, Charles Stephens e Patrick Baltazar. Anche l'ex sceriffo della contea di Decalb, Sidney Dorsey, che in qualità di detective degli Omicidi ha perquisito la casa dei Williams in cerca di prove, non crede che Wayne Williams abbia commesso quei crimini. Nel 2004 il capo della polizia, Louis Graham, ha riaperto le indagini sulle cinque vittime della contea di Decalb. Aaron Wyke, Patrick Baltazar, Curtis Walker, Yusuf Bell e William Barrett. Louis Graham era uno degli investigatori originali del caso e, come Sidney Dorsey, non credeva che Williams fosse colpevole di nessuno degli omicidi che gli erano stati attribuiti. Nel giugno del 2006 la contea di Decalb ha abbandonato le nuove indagini dopo che Louis Graham si è dimesso. Nel gennaio del 2007 lo Stato ha accettato di testare il DNA dei peli di cane trovati su alcune delle vittime. Questi peli sono stati usati per collegare Williams ai crimini e condannarlo. Gli avvocati di Williams sapevano che il test avrebbe potuto escludere i pastori tedeschi, la razza di cane che aveva la famiglia Williams al momento degli omicidi. I risultati erano arrivati in cinque mesi, ma non hanno scagionato Williams. I risultati, attenzione, non indicavano in modo definitivo che quei peli appartenessero al cane di Williams, il che era significativo, ma non potevano nemmeno eliminare l'ipotesi che quei peli provenissero dal cane di Williams. La questione sgradevole del KKK è emersa durante gli omicidi, le indagini e il processo di Wayne Williams. Con il sindaco che era nero, così come il capo della polizia e un numero considerevole di agenti di polizia in città neri, la voce che girava per strada era che il KKK era ansioso di iniziare una guerra razziale per eliminare la maggior parte della popolazione nera il più velocemente possibile. Un sospettato di nome Charles Sanders viene notato dalle autorità durante le indagini, ma poi viene messo da parte e dimenticato in breve tempo. Ebbene, Charles Sanders insieme a suo padre e i suoi fratelli era un membro del KKK. Secondo un informatore confidenziale della polizia, Charles disse a suo padre nel dicembre del 1980 che aveva soffocato a morte Luby Jeter perché erano sui go-kart e lui aveva osato colpire la sua auto. Un altro informatore afferma che Sanders aveva ammesso di aver ucciso il piccolo bastardo, ossia Luby, e che loro, ossia il KKK, avevano ucciso finora circa 20 bambini neri e presto avrebbero iniziato a uccidere giovani donne nere. La polizia sosteneva che Sanders e la sua famiglia aveva subito una approfondita indagine ed erano stati sorvegliati per circa sette settimane durante le quali altre quattro vittime erano state rapite e uccise. Sanders e due dei suoi fratelli inoltre si erano offerti volontari per fare i test della macchina della verità che avevano superato, tra l'altro. Secondo quanto riferito c'erano anche più vittime del canonico 28, 29 o 30. Chet Detlinger, un tempo investigatore privato e quindi qualcuno che la polizia non vedeva di buon occhio a causa delle sue conoscenze sul caso, ha scritto un libro intitolato The List, ossia La Lista, uno straziante racconto degli omicidi. Ebbene, crede che siano iniziati nel 1979 e che siano continuati fino al 1983. Se ricordate, era stato tirato in causa John Douglas, un profiler dell'FBI che pensava che l'assassino fosse un giovane uomo nero. Ecco, lui a questo punto è convinto che Wayne Williams possa essere colpevole di alcuni degli omicidi, ma non di tutti. Crede che il Dipartimento di Polizia di Atlanta sapesse benissimo chi fosse il responsabile e la verità era molto più tremenda di quanto si potesse pensare. Non crede, tra l'altro, che ci fosse un serial che operava ad Atlanta durante gli anni mortali del 1979, 1980 e 1981. La maggior parte dei serial si attiene a un tipo di vittima almeno dal punto di vista del genere. Dunque, se escludiamo Angel e La Tonia dalla lista, questo vorrebbe dire che c'erano almeno due assassini che operavano ad Atlanta nello stesso momento. Tuttavia, Angel aveva 12 anni, era scomparsa a piedi dopo aver lasciato la casa di un'amica e in seguito era stata trovata legata a un albero strangolata con un cavo elettrico. Era a quasi 6 miglia da casa sua, quindi sicuramente qualcuno l'aveva trasportata con un veicolo. La Tonia aveva solo 7 anni ed era stata rapita da casa, mentre lei e la sua famiglia dormivano. Era stata trovata in fondo alla strada rispetto alla sua residenza, il che potrebbe indicare che il suo rapitore e assassino era a piedi. La persona che l'ha presa quasi certamente era già stato dentro la casa, poiché sapeva esattamente come arrivare alla Tonia. Per questi motivi si dubita che la stessa persona abbia rapito sia Angel che la Tonia. È molto più probabile che Angel fosse stata aggredita di impulso, però, forse da uno degli arruolati del vicino Fort Merk-Person. Può essere una coincidenza che Campbell Town Road, dove era stato trovato il suo corpo, fosse a Fort Merk-Person? Il rapimento di la Tonia, invece, era stato quasi certamente pianificato e pensato con cura. Secondo quanto riferito, un addetto alla manutenzione aveva sostituito il vetro alla finestra della sua camera pochi giorni prima del suo rapimento e aveva le foto di tutte le vittime e in seguito aveva confessato un altro omicidio. Se fosse stato lui il responsabile dell'omicidio di la Tonia, questo avrebbe voluto dire che c'erano tre assassini che colpivano ad Atlanta. Torniamo a questo punto alle sole vittime maschili. Avevano un'età compresa tra i 9 e i 27 anni. Un serial normalmente si sarebbe attaccato a ragazzi, adolescenti o adulti in età prepuberale. Non tutti, a tutte e tre le tipologie. Questo potrebbe significare la presenza di altri due o anche tre assassini. Le vittime sono state anche uccise in modi diversi. Alcune erano state uccise a colpi di arma da fuoco, altre pugnalate, altre strangolate con una legatura, altre soffocate. Alcune vittime sono state smaltite in specchi d'acqua, mentre altre sono state lasciate in boschi, parcheggi e edifici abbandonati. Alcune vittime erano completamente vestite, alcune parzialmente vestite e alcune nude o quasi nude. I serial tendono ad essere abitudinari. Hanno un modo superandi a cui si attengono quasi sempre che include i tipi di vittime, i metodi di uccisione e i metodi di smaltimento. La prima vittima della lista, Teddy Smith, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Quattro giorni dopo, il suo amico, Alfred Evans, fu rapito e ucciso. Poiché il medico legale ha stabilito che Evans era morto a causa di strangolamento, il suo omicidio è stato attribuito a Wayne Williams. L'omicidio di Teddy Smith però non era avvenuto mediante lo strangolamento, anche se i corpi sono stati trovati insieme. L'unica logica è che gli omicidi per strangolamento fossero stati attribuiti a Williams, mentre la vittima uccise con altri modus operandi non erano vittime di Williams. Suggerendo che Wayne Williams fosse responsabile di quasi tutti i crimini, gli investigatori hanno scelto di ignorare le ovvie connessioni tra molte delle vittime. Ad esempio, centro commerciale Moreland Avenue. Aaron Jackson era scomparso da lì. Patrick Rogers portava dei generi alimentari, sempre in quel centro commerciale. Aaron Wyke era stato avvistato al centro il giorno della sua scomparsa. Thomasville hates Aaron Jackson frequentava il centro ricreativo, Curtis Walker aveva vissuto lì, Patrick Rogers risiedeva lì al momento della sua morte. A questo punto devo ricordarvi un'altra persona che è stata nominata nel caso, ossia John David Wilcoxen. Earl Terrell era scomparso dopo essere stato visto l'ultima volta dall'altra parte della strada rispetto alla casa di Wilcoxen e testimoni lo hanno collocato in casa sua prima della sua scomparsa e omicidio. Luby Jeter era stato visto in compagnia di Wilcoxen diverse volte prima della sua stessa scomparsa e omicidio. Wilcoxen era un pedofilo che era stato arrestato con decine di materiale pedopornografico e fotografie nella sua casa. Molte vittime si conoscevano, molti erano amici. Molte vittime inoltre facevano lavori saltuari per guadagnare soldi extra. C'è stata una cospirazione in questo caso? Sembra proprio di sì. L'incompetenza della polizia potrebbe spiegare uno o due errori ma la continua mancanza di risposte e la totale indifferenza alle telefonate e alle richieste di aiuto vanno oltre l'incompetenza. Mi spiace, questa è la mia opinione e non solo la mia. Nell'ipotesi che le autorità abbiano scelto di non agire resta solo una domanda. Perché? Perché le vittime erano nere e poveri o perché qualcuno al potere era coinvolto nelle sparizioni e negli omicidi? È un pensiero brutto e scoraggiante ma viene preso in considerazione da molti. In molti casi c'erano prove che indicavano persone diverse da Wayne Williams e le autorità hanno scelto di non darvi seguito o hanno respinto i testimoni come, confusi o ancora peggio, il ritardo. Capitemi. Dopo il processo di Williams alcuni testimoni si sono fatti avanti per ritrattare la loro testimonianza, sostenendo di aver ricevuto un risarcimento finanziario per commettere falsa testimonianza. Così fecero anche gli agenti di polizia che avevano affermato di aver sentito il famoso tonfo sul ponte quella notte del maggio 1982, quando Wayne Williams fu fermato. Alla fine hanno ammesso di non aver sentito nulla. I peli di cani trovati su 15 delle vittime sono stati catalogati all'epoca come provenienti da un Siberian husky. La famiglia di Wayne Williams possedeva un pastore tedesco. Come ben sapevano le autorità, tra l'altro. La famiglia Sanders, invece quella che faceva parte del KKK, aveva allevato husky siberiani e possedeva una sceva in pala verde, ossia il tipo di auto che i testimoni hanno ricordato di aver visto in molti dei rapimenti e nelle discariche di cadaveri. I media, allora come oggi, hanno scelto di ignorare qualsiasi fatto o informazione che suggerisca che ci fosse più di un assassino. Durante il periodo degli omicidi si sono comportati in modo deplorevole. Si accampavano sui prati avvicinandosi ai genitori e alla famiglia dei bambini nei momenti meno appropriati o addirittura sbirciavano fuori dalle loro finestre, senza parole. Hanno partecipato ai funerali delle vittime, puntando crudelmente gli obiettivi della fotocamera sui volti addolorati dei loro cari. Un funerale, un cameraman si è addirittura chinato sulla barra della vittima di un omicidio per ottenere una buona ripresa della madre del ragazzo mentre piangeva. Un'altra madre è stata avvicinata dalla stampa quando ha appreso che il corpo di suo figlio era stato trovato. Una telecamera le è stata piazzata davanti alla faccia e le è stato chiesto come si sentiva. Piuttosto che aiutare a risolvere il caso e impedire che qualcun altro morisse, i media sembravano nutrirsi della paura e del dolore, gloriandosi della tragedia. In questo modo i media hanno vittimizzato i bambini e i loro genitori. Molti pensano che sia possibile che Wayne Williams abbia ucciso alcune delle vittime, così come pensano sia possibile che non abbia ucciso nessuno. Pensano che la maggior parte delle vittime siano state uccise da qualcuno che conoscevano o pensavano di conoscere. Una volta che nella comunità si era diffusa la voce sui bambini rapiti, sembrava improbabile che questi ragazzi andassero con qualcuno di cui non si fidavano. Questi ragazzi erano intelligenti e scaltri, purtroppo però provenivano anche da ambienti poveri, il che non solo ha portato alla mancanza di importanza e attenzione, almeno per un certo tempo, ma anche alla necessità di alcuni di loro di prostituirsi. La tragedia più grande è ovviamente l'eccessiva perdita di vite umane, ma tragico è anche il fatto che se queste opinioni sono corrette, almeno cinque assassini se la sono clavata per i loro crimini. Se Wayne Williams non era uno di loro, gli è stato perpetrato un terribile errore giudiziario, negandogli la libertà e alle vittime la possibilità di ottenere giustizia. Io ho finito di parlare in questo video eterno, lo so che è lungo lungo, quindi grazie a tutti quelli che sono rimasti qui, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso perché io sono uscita fuori di testa letteralmente mentre facevo le ricerche, è sempre lo stesso assassino, ce ne sono altri, secondo me ce ne sono altri, ma voglio sapere assolutamente cosa ne pensate con un commentino qui sotto, questo caso è davvero davvero tragico ed è per questo che ho voluto portarlo sul canale, perché credo sia importante ricordare un fatto così tanto tremendo e tragico, così tante vite spezzate, è tremendo davvero e purtroppo non è chiara la situazione, non è affatto chiara secondo me, ma come già vi ho detto ci becchiamo nei commenti, sono sempre molto curiosa di leggere le vostre opinioni. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!